Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'infortunio mortale che si è verificato ieri sulla linea ferroviaria Bologna-Milano dove ha perso la vita un operaio di 59 anni. Sulla tragedia intervengono i sindacati Filt e CGL. Siamo costretti a denunciare e a piangere l'ennesimo incidente lungo i binari, scrivono in una nota. Abbiamo chiesto subito un incontro su quello che è accaduto a Fiorenzuola e più in generale sulle tematiche della sicurezza alla direzione regionale di RFI. Un incidente simile si era registrato a Firenze nei giorni scorsi, fortunatamente senza provocare vittime. Rinnoviamo il più sentito cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell'operaio deceduto, chiediamo e lo faremo in tutte le sedi preposte che sulle normative di sicurezza non ci siano deroghe. Le normative in materia vanno applicate e fatte rispettare al fine di evitare ripetersi di simile tragedie, continuano i sindacati. Il lavoratore stava eseguendo lavori per i nuovi pali della linea elettrica di alimentazione delle ferrovie quando è stato urtato dalla scaletta del locomotore di un treno merci transitante in senso opposto. Ora resta da capire se al momento dell'incidente fosse attivo il sistema di protezione che allerta gli addetti in caso di transito di un treno.